Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Vi avviso, vi stupirà l'efferatezza con cui è stato commesso il crimine che affrontiamo oggi, considerando i rapporti tra vittime e carnefice e la ghiacciante modalità di attuazione dell'omicidio. La protagonista del caso è Tiffany Ann Cole, che nasce il 3 dicembre 1981 e cresce a Charleston, nel South Carolina. I suoi genitori, Shelley e David Duncan, divorzano quando è ancora una bambina e questa situazione ha un impatto notevole sulla vita di Tiffany. Subito dopo il divorzio, la bimba trascorre la maggior parte della sua infanzia, vivendo a periodi alterni con il padre e poi con la madre. Questa condizione la porta a non sentirsi mai realmente a casa. Lei stessa oggi sostiene di non aver mai vissuto una vera e propria infanzia, in quanto è cresciuta velocemente, con l'esigenza di incaricarsi di varie responsabilità, specialmente quando restava da sua madre. La giovane Tiffany deve anche prendersi cura dei suoi fratelli più piccoli, e questo la porta ad assumere un ruolo quasi materno, ruolo che le sta particolarmente stretto. Dopo un po' di tempo, la madre di Tiffany incontra un altro uomo che diventa il patrigno della ragazzina e che purtroppo si rivela come un individuo violento e abbandonante. Non si sa con certezza se fosse manesco e offensivo anche nei confronti di Tiffany, ma di certo lui era con suo fratello minore. Quindi Tiffany, nella migliore delle ipotesi pensate un po', ha assistito a una moltitudine di abbandoni perpetuati ai danni dei suoi familiari. Nella peggiore, li ha subiti lei stessa. In ogni caso è sufficiente la prima condizione per scatenare un trauma, anche perché Tiffany si sente impotente. Non c'è nulla che possa fare per impedire i comportamenti del suo patrigno. Lui è anche solito fare del male agli animali. Infatti Tiffany racconta di averlo visto scagliare un cagnolino contro un muro, facendogli rompere l'osso del collo. Ciò nonostante, Tiffany prova a fingere che la sua sia una vita normale e in apparenza ci riesce. A scuola consegue ottimi voti, suona il flauto nella banda dell'istituto, poi crescendo entra negli scout e infine diventa cheerleader. Tuttavia, da quando compie 16 anni, l'ombra che assale la sua vita si estende perché cominciano gli abbandoni esercitati dal padre biologico. Questo sostiene Tiffany, che ha provato a parlarne con sua madre, ma quest'ultima non le ha creduto. Così, in questo periodo, la ragazza scappa di casa. Lontana dalla famiglia che avrebbe dovuto proteggerla, inizia a frequentare persone poco raccomandabili, con cui sviluppa relazioni malsane e tossiche. Prende anche il vizio di bere alcolici e quello di assumere sostanze pericolose. Dopo qualche anno, Tiffany scopre che il padre biologico ha un cancro terminale, quindi torna a casa da sua madre, a Ledson, dove entrambe si prendono cura di lui. Onestamente non so cosa abbia provato Tiffany mentre accudiva il genitore che ha avuto di lei, ma immagino una sensazione conflittuale. La ragazza rimane in contatto con lui fino all'età di circa 20 anni e intanto familiarizza con i vicini di casa e amici del padre biologico, cioè la coppia composta dai cinquantenni Carol e James Reginald Sumner, detto anche Reggie. Carol e James sono persone di cuore, si prendono cura di Tiffany e quando ha bisogno di qualcosa, sono sempre presenti. Con il tempo iniziano a considerarla come una propria figlia. Carol e James hanno circa 50 anni e si sono sposati da non molto tempo. La loro storia d'amore, credetemi, sembra quella di un film. Non so se credete all'anima gemella, onestamente non lo so neanche io se credo all'anima gemella, ma Carol e James a me sono parsi esattamente questo, anime gemelle. Carol e James cominciano a uscire insieme ai tempi del liceo. Iscritti allo stesso anno. I due sedicenni poi si lasciano e perdono i contatti. Ognuno va per la sua strada, infatti entrambi si sposano con altre persone. James si arruola nella marina militare dove lavora per la maggior parte della sua vita e a un certo punto divorzia dalla moglie. Carol mette il mondo dei figli con suo marito, tuttavia questa unione non è affatto felice perché lui è un violento, tanto che anche il loro matrimonio si sgretola e i due divorziano. Dopo aver ottenuto il divorzio, un giorno l'ex marito di Carol compie un gesto estremo. Le spara parecchie volte, poi si allontana, punta la pistola contro se stesso e si tocca la vita. Miracolosamente Carol sventa il tentato omicidio grazie a una trasfusione di sangue, ma il destino con lei è ancora crudele. Infatti il sangue usato per la trasfusione era infetto da epatite C, così la donna purtroppo si ammala e sviluppa un cancro al fegato. Carol a questo punto sta malissimo sia mentalmente che fisicamente, ha davanti a sé un lungo percorso da affrontare per tentare di guarire. Nonostante ciò decide di non buttarsi giù, anzi è determinata a vivere la sua vita nel modo migliore possibile. Vuole anche trovare un lavoro a cui dedicarsi, chiaramente uno adatto al suo stato di salute, e così inizia a lavorare in un call center per un canale televisivo via cavo. Carol è letteralmente al settimo cielo perché questo lavoro si adatta al suo stile di vita e lo stipendio percepito le consente di essere indipendente. Un giorno James chiama il call center in qualità di cliente e a rispondere è proprio Carol. Quando lui si presenta come James Reginald, lei lo riconosce e gli chiede se per caso al tempo del liceo fosse stato fidanzato con una certa Carol. James, esterefatto, risponde di sì, frequentava una bellissima ragazza con quel nome. Ebbene, da questo momento i due riprendono a sentirsi, si scambiano i numeri di telefono e quando Carol stacca dal lavoro, trascorrono la serata a chiacchierare, ripercorrendo tutto quello che hanno vissuto dopo essersi persi di vista. Fatta quella lunga telefonata, decidono di fissare un appuntamento per incontrarsi di persona e si può dire che la loro storia d'amore ricominci da dove si era interrotta, ben 40 anni dopo. I due, in poco tempo, si rinnamorano perdutamente l'una dell'altro. A questo punto hanno entrambi circa 50 anni. Nel giro di un anno si sposano e all'inizio degli anni 2000 si trasferiscono in una casa a Charleston, nel South Carolina. Ben presto fanno amicizia con il vicino di casa, ossia il padre di Tiffany, e quando quest'ultimo si ammala, conoscono anche sua figlia. Carol e James sanno che il padre di Tiffany è malato, anzi, che versa in pessime condizioni di salute, e notano che ad accudirlo è soprattutto sua figlia. Quindi prendono Tiffany sotto la loro ala protettrice, la sostengono, vogliono fare tutto il possibile per aiutarla. Carol e James sono davvero persone amorevoli, sempre pronte a supportare il prossimo. I due sono anche molto vicini alle loro famiglie, specialmente alla figlia di Carol, Ronda. Anche lei vive a Charleston e passa molto tempo con sua mamma. Se non riescono a vedersi, parlano al telefono ogni singolo giorno. Arriviamo al febbraio del 2005, quando James e Carol decidono di trasferirsi a Jacksonville, in Florida. Sono passati circa quattro anni dal loro matrimonio, e i due si vogliono godere gli anni della pensione. Anche la coppia ha problemi di salute non indifferenti. James soffre di diabete, mentre Carol si sta ancora sottoponendo alla chemioterapia per il cancro al fegato. Ma a Jacksonville ci sono strutture mediche all'avanguardia. Prima di trasferirsi, i coniugi decidono di vendere la loro macchina. Tiffany ammette che avrebbe tanto voluto comprarla, tuttavia non ha abbastanza soldi. Siccome la coppia è affezionata alla cara Tiffany, le permette di pagare l'auto tramite delle piccole rate mensili. Inoltre, i coniugi le dicono che vorrebbero continuare a vederla e la invitano nella loro nuova casa a Jacksonville. Dunque, Carol e James si trasferiscono, mentre Tiffany continua a prendersi cura del padre con l'aiuto della madre. Arriviamo al maggio del 2005, quando Tiffany incontra un ragazzo nell'atrio di un hotel. Il suo nome è Michael James Jackson. Tiffany si trova in quell'albergo perché è andata a fare una gita in spiaggia con gli amici e i due si trovano subito bene nel conversare tra loro, quindi decidono di trascorrere l'intero fine settimana insieme. Poi, pure di continuare a frequentarsi. La loro però non è una relazione ufficiale. Entrambi si parlano con chiarezza e concludono che non vogliono un rapporto impegnativo. Qualche settimana dopo, nel giugno del 2005, Michael dice a Tiffany che vuole andare a trovare un suo amico, un certo Alan Wade, il quale vive proprio a Jacksonville e invita Tiffany ad accompagnarlo. Tiffany accetta, anzi, sostiene che i suoi amici, Carol e James, li avrebbero probabilmente ospitati volentieri. Arrivati a Jacksonville, i ragazzi vanno a casa di Carol e James, dove Tiffany deve recuperare dei documenti relativi all'automobile acquistata. La coppia è sempre gentile e fa accomodare sia Tiffany che Michael in casa. Anche se non lo conoscono, non si fanno problemi ad accoglierlo, visto che è il fidanzato di Tiffany. Mentre sono lì, i coniugi parlano della fruttuosa vendita della loro vecchia casa a Charleston e James racconta che sono riusciti a cederla per circa 100.000 dollari, soldi ora depositati sul loro conto bancario. Appena Michael sente questa notizia, gli si drizzano le orecchie e inizia a pensare a un piano per derubare la coppia. Insomma, si rende conto che Carol e James sono le vittime perfette, perché non più giovanissimi, ormai hanno 61 anni ciascuno, e molto vulnerabili. Carol e James, ignari dei pensieri criminali del ragazzo, invitano lui e Tiffany a passare la notte da loro nella camera da letto per gli ospiti. Michael spiega a Tiffany il suo piano e lei, immaginate un po', sembra d'accordo con lui, ben disposta a tradire le persone che le hanno dato tanto affetto. Durante il resto del loro soggiorno, Michael inizia a studiare la dimora della coppia, con calma, e prende nota degli effetti personali di valore presenti in casa. Vuole rubare anche quelli, ovvio. Nelle settimane successive, dopo aver lasciato l'abitazione di Carol e James, Michael organizza il suo piano nel dettaglio. Intendeva dapprima derubare la coppia e basta, ma i giorni passano, e questo progetto diventa sempre più oscuro e malvagio. Come spiega Tiffany, e non possono effettuare il furto e andarsene come se nulla fosse, è necessario uccidere i coniugi per assicurarsi il loro silenzio. Tuttavia, non riuscirebbero mai a portare a termine la terribile impresa da soli. Hanno bisogno di aiuto, quindi cercano collaborazione in due amici di Michael. La prima persona a cui chiedono supporto è Alan Wade, l'amico che Michael e Tiffany erano andati a trovare a Jacksonville. La seconda persona si chiama Bruce Nixon. Ad Alan Wade viene rivelato l'intero piano. Sa che l'obiettivo è quello di derubare Carol e James e poi di ucciderli. Bruce Nixon invece apprende che devono compiere una rapina, ma non ha idea che sia previsto un duplice omicidio. Il gruppo quindi acquista guanti, nastro adesivo e tutto l'occorrente per il furto. Tiffany decide anche di noleggiare un'autosportiva, una Mazda argentata, con cui raggiungere la casa della coppia. Forse è convinta che in questo modo le autorità non sarebbero mai risalite a lei. Ovviamente questa convinzione non rappresenta la realtà, visto che è necessario firmare dei documenti per poter noleggiare una macchina. Il gruppo infine decide di portare a termine il piano l'8 luglio del 2005. Il 6 luglio la banda varca i confini di Stato e si reca in una zona remota della Georgia meridionale. I quattro individuano una zona boscosa e scavano una fossa profonda circa due metri, poi tornano indietro. L'8 luglio arrivano fuori dalla casa di Carol e James, a bordo dell'autosportiva noleggiata. Tiffany, senza alcun rimorso, spiega ai compagni che la coppia è davvero di buon cuore, si fida facilmente e ama aiutare gli altri. Il gruppo intende usare questo aspetto a proprio vantaggio, quindi Alan e Bruce scendono dall'auto e vanno a bussare alla porta di casa della coppia. Michael e Tiffany per ora restano in macchina, dato che Carol e James li conoscono. In questo momento i coniugi si stanno rilassando, preparando la cena insieme, contenti al pensiero di trascorrere una serata tranquilla. Purtroppo le loro previsioni sono alterate dall'intervento di Alan e Bruce, che bussano alla porta. Carol va ad aprire e i due ragazzi le raccontano che la loro macchina è in panne, si trova a un paio di isolate di distanza. Siccome i loro cellulari non hanno campo, le chiedono il permesso di entrare in casa per usare il telefono e chiamare qualcuno che possa aiutarli. Quando James sente che Carol sta parlando con degli sconosciuti, la raggiunge sulla porta e accetta di aiutare i ragazzi, così li invita a entrare in casa per usare il telefono. Ma appena Carol chiude la porta d'ingresso, Alan o Bruce, non so chi dei due perché le fonti si contraddicono, estrae una pistola minaccioso. In realtà si tratta di una pistola giocattolo, che però sembra vera perché è molto realistica. Alan e Bruce dicono ai padroni di casa che se non avessero fatto tutto ciò che gli avrebbero chiesto, sarebbe finita male per loro. La coppia di 61 anni è terrorizzata. Carol e James sono soggetti indifesi dalla salute cagionevole, quindi non riescono ad affrontare Alan e Bruce. Non possono scappare né difendersi, così assecondano gli ordini dei due rapinatori, sperando di avere salva la vita. Alan disattiva le linee telefoniche e poi usa del nastro adesivo per legare le mani e i piedi, sia a Carol che a James. Poi gli intrusi attaccano lo scotch, anche sulle bocche e sugli occhi dei poveretti. Solo a questo punto Michael entra in casa. Avendo preso nota di tutto ciò che vuole rubare, si reca subito nelle varie stanze della casa e recupera tutti gli oggetti che aveva addocchiato. La collezione di monete di James, i documenti bancari e le carte di credito. Dopo l'appropriazione dei beni dei coniugi, Alan, Bruce e Michael portano Carol e James nel garage e li obbligano a entrare nel bagagliaio della loro macchina, una Lincoln Town. Vi ricordo che Carol e James hanno ancora il nastro adesivo sugli occhi che riuscite a immaginare quanto fossero terrorizzati. Non avevano neanche modo di vedere e capire tutto quanto stava loro succedendo. Alan e Bruce salgono nella macchina della coppia e partono, mentre Michael raggiunge Tiffany che è rimasta nella Mazda senza mai entrare in casa. Dunque i membri del gruppo, divisi in due auto, attraversano il confine di stato fino ad arrivare nella Georgia meridionale. Si dirigono quindi verso la zona in cui hanno scavato la buca due giorni prima. Una volta arrivati, aprono il bagagliaio della Lincoln Town e si rendono conto che in qualche modo James e Carol sono riusciti ad allentare il nastro adesivo attorno alle mani. Ma soprattutto, cosa che mi spezza il cuore, li ritrovano abbracciati mentre cercano di darsi conforto a vicenda e pregano che quest'incubo possa finire presto. Ai quattro delinquenti non importa granché che Carol e James abbiano provato a liberarsi, sanno che sono troppo deboli per tentare di respingerli e scappare. A questo punto rimuovono il nastro adesivo dagli occhi degli ostaggi che soltanto ora scoprono della complicità di Michael e Tiffany alla rapina e al sequestro. Mi dà i brividi immaginare quanto siano rimasti di sasso ma soprattutto feriti nel vedere quella ragazza che consideravano come una figlia intenta a far loro del male. Deve essere stato straziante e volevano così bene a Tiffany e si fidavano ciecamente di lei tanto da invitarla pure a Jacksonville ma Tiffany stava ripagando la loro gentilezza con gesti carichi di orrore. James e Carol vengono portati al lato della buca già scavata e Michael inizia a minacciarli perché vuole ottenere i pin delle loro carte di credito. James non ci pensa neanche un secondo glieli fornisce immediatamente e spera con tutto il cuore che quei criminali risparmino la vita a lui e a sua moglie visto che ha eseguito tutti i loro ordini. Purtroppo però questo non avviene la pietà non è contemplata nelle loro menti perché James e Carol vengono gettati nella fossa poi Alan e Michael iniziano a riempirla buttandovi dentro della terra. Sottolineo che hanno impiegato tanto tempo e sforzi per ricoprire la buca quindi avrebbero potuto ripensarci e concedere ai due ostaggi di sopravvivere ma purtroppo non lo fanno. La terra inizia a investire il corpo di Carol e James e il suo peso rende quasi impossibile che continuino a respirare. Alla fine il terreno ricopre anche le loro bocche e i nasi tutta la testa. Carol e James disperati iniziano a mangiarlo a inalarlo fino a morire soffocati. Mentre vengono sottoposti a una fine brutale Tiffany se ne sta lì a guardare senza opporsi in alcun modo. Al termine di questo orribile omicidio Alan, Bruce e Michael fuggono con l'auto della coppia. Provano a pulirla per rimuovere ogni traccia incriminante e la abbandonano a Sanderson in Florida mentre Tiffany li segue guidando la Mazda. Infine salgono tutti a bordo dell'auto presa a noliggio e tornano a casa della coppia. Vogliono rubare altri oggetti di valore gioielli computer e ulteriori averi che poche ore dopo l'omicidio iniziano a impegnare. Nello stesso tempo si fermano in vari sportelli ATM per prelevare diverse somme di denaro per un totale di circa 1000 dollari. Con questa cifra i delinquenti hanno la brillante idea di noleggiare una limousine e si scattano diverse foto mentre festeggiano e si divertono lì dentro. In pratica si comportano come se avessero appena vinto alla lotteria quando in realtà hanno ottenuto quei soldi uccidendo in modo sadico una coppia di signori innocenti che non aveva fatto loro alcun male anzi li aveva addirittura aiutati. A questo punto nella storia riemerge Ronda la figlia di Carol che continua a vivere a Charleston nel South Carolina. Come vi ho detto Ronda sente sua madre ogni singolo giorno anche più volte al di quindi si insospettisce quando non riesce a raggiungerla. Intuisce che c'è qualcosa che non va perché non le risponde da più di 24 ore. Trascorse ulteriori 24 ore Ronda decide di agire e si reca personalmente fino a Jacksonville per verificare se sia tutto a posto. Innanzitutto si rende conto che la macchina di sua madre e del suo patrigno non c'è. Poi entra in casa e vi ritrova soltanto il cane di famiglia. Tuttavia le medicine di Carol e James sono lì nell'abitazione e nessuno dei due coniugi sarebbe uscito senza portare con sé i propri farmaci. James in particolare aveva una forma grave di diabete. Oltre alle medicine di entrambi Ronda trova anche il cellulare di Carol lo sblocca e visualizza le decine e decine di chiamate perse effettuate dal suo numero. Infine nota che c'è ancora la cena in pentola ma le pietanze sono tutte praticamente cotte a metà e a questo punto Ronda va nel panico ne è certa è successo qualcosa di brutto in quella casa sua madre non sarebbe mai e poi mai uscita lasciando il pasto a metà cottura a meno che non ci fosse stata un'emergenza ma in tale caso perché non l'aveva contattata era improbabile che fosse andata così Ronda sempre più allarmata chiama la polizia quando gli agenti arrivano sul posto concordano che c'è qualcosa che non va guardandosi intorno intuiscono che c'è stata una rapina dato che la macchina di James e Carol manca all'appello la polizia inizia a indagare proprio da lì dove è finita presto rintracciano la Lincoln Town in quanto il gruppo l'aveva abbandonata sul ciglio della strada e qualcuno aveva segnalato la corsa già la banda non si era neanche preoccupata di nasconderla da qualche parte quando la polizia arriva sul luogo inizia a preoccuparsi seriamente è chiaro che i due coniugi non sono semplicemente partiti e si pensa al peggio il 12 luglio gli inquirenti denunciano la scomparsa di James e Carol e la notizia viene diffusa attraverso tutti i telegiornali nella speranza di ottenere aiuto dai cittadini nello stesso giorno arriva una chiamata all'ufficio dello sceriffo il cui autore finge di essere James la polizia dapprima si sente sollevata ma prestando maggiore attenzione alla voce dell'interlocutore capisce che non può trattarsi di James quella voce appartiene a una persona molto più giovane sui 20 anni a spacciarsi per James è proprio Michael il quale rassicura la polizia dicendo che lui e Carol stanno bene hanno soltanto deciso di fare un viaggio nel Delaware spiega che il suo vicino di casa gli ha telefonato perché pare che durante la loro assenza gli abbiano rubato la macchina e a questo proposito ho una domanda se a James hanno rubato la macchina lui e la moglie come si stavano spostando volavano Michael non ha pensato a questo dettaglio convinto che la sua versione spieghi perché la polizia ha trovato la macchina dei coniugi abbandonata è stata rubata Michael pensa davvero di poter fregare le forze dell'ordine ma la polizia questa storiella non se la beve neanche per un minuto tuttavia ovviamente gli agenti fingono di credergli sperando che l'impostore riveli più informazioni la polizia dunque gli chiede dove si trovi esattamente ok nel Delaware ma in quale città l'uomo che si identifica come James spara il nome di una cittadina a caso che guardate un po' non esiste nel Delaware a questo punto la gente chiede di parlare con Carol per accertarsi che stia bene il telefono viene così passato a una donna che sostiene di essere Carol e conferma di stare bene la gente dunque le chiede se soffra di qualche problema di salute lei risponde sì cancro al fegato la polizia è quasi certa che i due siano degli impostori ma per sicurezza chiede a Ronda di ascoltare la telefonata Ronda conferma alla polizia che quella donna non è affatto sua madre sta mentendo sulla propria identità dunque gli inquirenti non hanno alcun dubbio che gli interlocutori misteriosi siano i responsabili della sparizione di Carol e James diventa dunque essenziale rintracciarli il prima possibile anche se non sono emersi informazioni utili dalla telefonata si dispone quel numero dal quale è stata effettuata a chi apparterrà la polizia chiede i tabulati telefonici e parallelamente inizia a fare dei controlli sul conto bancario di James e Carol scopre così che sono state prelevate ingenti somme di denaro da diversi dispositivi autorizzati esamina quelli che possiedono le telecamere di sicurezza guarda i filmati e individua un giovane uomo sceso dal sedile del passeggero di una Mazda la polizia quindi esamine i tabulati telefonici acquisiti controlla tutte le chiamate in uscita da questo numero e ne trova una fatta a una società di noleggio auto contatta alla società e chiede informazioni risalendo così alla Mazda color argento tuttavia a noleggiarla non è stato il giovane ripreso dal filmato presso il dispositivo ATM ma una donna una certa Tiffany Cole la società di autonoleggio inoltre spiega alla polizia che è in grado di rintracciare tutte le auto di sua proprietà quindi avrebbe fornito l'indicazione del luogo esatto in cui si colloca la Mazda in questione ed eccola individuata ben presto si trova nel parcheggio di un motel a North Charleston nel South Carolina la polizia quindi che fa vi si reca e fa in tempo a beccare Tiffany Michael e Alan nella camera riservata della ragazza all'interno in realtà ci sono anche tante prove del rapimento le chiavi della Lincoln Town ossia la macchina dei due coniugi la collezione di monete di James documenti finanziari e carte bancarie dei coniugi scomparsi Tiffany Michael e Alan vengono tutti e tra arrestati ma la polizia ancora non sa cosa sia successo esattamente a Carol e a James quindi la priorità resta quella di trovarli la prima cosa che fanno gli investigatori è interrogare Michael Alan e Tiffany Michael e Alan non dicono una sola parola mentre Tiffany dopo un po' si lascia sfuggire che c'è un'altra persona complice del furto a casa della coppia cioè Bruce Nixon la polizia arresta anche Bruce e lo interroga a differenza degli altri tre lui è disposto a raccontare tutta la storia spiega che il piano iniziale era quello di compiere una rapina a casa di James e Carol nient'altro sottolinea che era convinto si trattasse soltanto di questo ma poi ha scoperto che Michael aveva altri programmi Bruce riferisce che tutti e quattro hanno portato James e Carol in una zona boscosa in Georgia e li hanno seppelliti vivi gli agenti rimangono sconvolti dal crimine ferato di cui si sono macchiati questi ragazzi poi Bruce si propone di portarli nel luogo del delitto lì la polizia inizia a scavare e rinviene i corpi di James e Carol sotto circa un metro e mezzo di terra di nuovo sono abbracciati sono rimasti vicini sempre anche a un passo dalla morte l'autopsia conferma che i coniugi sono stati sepolti vivi e dopo la confessione di Bruce i quattro vengono accusati tutti di omicidio il processo inizia nell'ottobre del 2007 e Michael Tiffany Alan si dichiarano non colpevoli Tiffany all'ardire di sostenere che è completamente innocente ma siccome era coinvolta in una relazione violenta con Michael non aveva alcun controllo perché subiva quello di lui ripete che è strana il crimine lei non l'aveva pianificato e non voleva portarlo a termine anzi vi dirò di più come Bruce sostiene che era convinta di dover derubare Carol e James ma non di ucciderli sì è vero aveva partecipato allo scavo della fossa due giorni prima ma pensando che occorresse per seppellire gli oggetti che avrebbero rubato sei convinta di essere Jack Sparrow che seppellisce la sua ultima riserva di room Tiffany per caso Bruce però testimonia contro Tiffany fortunatamente affermando che era coinvolta fin dall'inizio aveva aiutato a definire il piano soprattutto era presente anche lei quando avevano seppellito la coppia i gioielli rubati vengono anche mostrati in tribunale individuati grazie a più foto che Michael e Tiffany si erano fatti sulla limousine li avevano sottratti a due persone che avevano sepolto vive poco prima mi vengono i brividi al suo pensiero ve lo giuro mamma mia la giuria ritiene Tiffany, Michael e Alan colpevoli di omicidio mentre Bruce che si è subito dichiarato colpevole di omicidio di secondo grado non ha dovuto affrontare alcun processo durante l'intera investigazione in realtà Bruce ha collaborato pienamente con le forze dell'ordine ha dimostrato rimorso si è scusato con le famiglie delle vittime ed è stato condannato a 45 anni di prigione gli altri tre invece vengono condannati alla pena di morte nel votare sulla condanna di Tiffany nove giurati si sono espressi a favore della pena di morte mentre tre ha sfavore nel caso di Michael otto giurati su dodici erano a favore della pena di morte infine riguardo al destino di Alan undici giurati erano favorevoli a decretare la pena di morte dunque uno soltanto uno era contrario Tiffany ha 25 anni quando viene condannata il che la rende all'epoca una delle donne statunitensi più giovani rinchiusa nel braccio della morte anche Alan e Michael hanno 25 anni quando vengono condannati mentre Bruce ne ha 20 Tiffany anche dopo la condanna rilascia diverse interviste in cui continua a dichiararsi innocente a dire che era coinvolta in una relazione violenta e di sottomissione sostiene di essere un'altra persona una che ha trovato pace e gioia e recuperato la serenità mentale fa diversi appelli contro la sua condanna alla pena di morte e nel 2017 la Corte Suprema della Florida la revoca questo avviene perché nel 2016 la Corte Suprema stessa ha sentenziato che una giuria dovrebbe sfrimersi in modo unanime quando emette un verdetto sulla pena di morte che spetterebbe a un imputato la giuria non lo era stata nel caso di Tiffany ma neanche in quelli di Michael e di Alan dunque tutti e tre alla fine vengono condannati all'ergastolo senza condizionale Alan vi dirò è addirittura apparso in un reality show chiamato L'amore non giudica perché aveva trovato la donna della sua vita nel braccio della morte prima che la pena di morte fosse revocata chiaramente attualmente è sposato e ha dato alla luce anche un figlio con lei onestamente non so come sia stato possibile visto che le visite coniugali nella prigione in cui Alan si trova non sono consentite sarà stata opera dello Spirito Santo ad Alan e a sua moglie permesso di sentirsi tramite telefono una volta al mese ma lei gli manda regolarmente dei video del loro figlio questo caso Nullo Nascondo mi ha lasciata davvero sconcertata chiariamo ho già ripercorso con altri video una vicenda in cui l'assassino ha seppellito la sua vittima viva ma prima l'aveva colpita la vittima era ferita e l'assassino non credeva che fosse ancora in vita quando la sepolta questi quattro delinquenti invece fateci caso non hanno torto un capello a Claire e a James li hanno legati e costretti entrare nel bagagliaio e infine hanno avuto il sangue freddo di seppellirli vivi consapevolmente io come ho già detto nel corso di questo video ho i brigidi se ci penso li immagino scavare quella buca in mezzo al bosco senza mai farsi un solo scrupolo riempirla con i corpi delle loro vittime indifese ma vive e infine trovare il coraggio di noleggiare una limousine per festeggiare la riuscita dell'impresa questi soggetti di certo non hanno mai sviluppato l'empatia dispiace davvero pensare al modo in cui Tiffany ha trattato James e Carol sempre gentili con lei sempre disposti ad aiutarla ma quella che consideravano come una figlia le ha pugnalati alle spalle e soltanto per arricchirsi un po' è così triste tutto ciò certe persone sono imprevedibili andrebbero temute ed evitate ma non si fa in tempo a scoprirlo purtroppo detto questo ragazzi ho finito di parlare di questo video fatemi sapere se conoscevate questo caso io no e soprattutto non ho mai appunto sentito di un caso in cui alle vittime non viene torto un capello e poi vengono seppellite vive onestamente credo che James abbia sperato fino alla fine che li lasciassero liberi proprio fino alla fine penso che James abbia smesso di sperare quando è finito nella buca e tutto ciò è davvero terrificante e mi spezza il cuore soprattutto perché davvero queste due persone avevano aiutato Tiffany e sono certa che avrebbero continuato ad aiutarla e invece lei li ha ripagati in questo modo è triste è tanto triste detto questo fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti come al solito ci becchiamo nei commenti io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti